Allora ecco siamo con il dottore De Angelis, medico del Brancaleone e dobbiamo dire che c'è tanto sconforto oggi per questa sconfitta qui del Brancaleone. Beh c'è un po' di amarezza e di delusione perché oltre a un po' di sfortuna oggi è mancato un po' di grinta. Sembra una squadra dai due volti fuori casa, facciamo la parte dei leoni in casa e ci nascondiamo un pochettino. Ma anche se dobbiamo andare avanti e non scoraggiarci. Sì comunque noi anche nel fare il commento l'abbiamo detto perché abbiamo visto una squadra poco convinta nel primo tempo. Forse nella ripresa abbiamo detto qualcosa è cambiato ma qualcosina e poi c'è stata oggi non so che cose si è successo forse l'assenza di Genova e la difesa era troppo ballerina. Ma certamente l'assenza di Genova è importante perché è un giocatore che caratterizza la difesa ma c'è stata io parlavo di sfortuna l'infortunio di Scegliano. Ecco se ci dai qualche raguaglio sul che cosa è successo al ragazzo. E ha avuto una distruzione alla caviglia quindi non poteva assolutamente continuare a giocare. Quindi ha una caviglia gonfia e con antinfiammatori e ghiaccio già... Altra tegola per il Brancaleone. Appunto le sfortune sono queste perché oltre a Genova, Galletta, adesso Scegliano, c'è una girandola di infortuni che sembra non finisca più. Ma dal punto di vista mercato c'è qualche altro movimento? Specialmente per il centrocampo? Questo non lo so, sta al direttore sportivo sondare un pochettino. Io penso che la squadra si possa riprendere facendo un lavoro psicologico e di allenamento sui giocatori che ci sono perché le potenzialità non mancano. Sì, comunque parlavamo noi delle distrazioni della difesa perché abbiamo visto molto distratto oggi Tringali che non abbiamo mai visto così. Abbiamo visto sempre fare il suo dovere, anzi in modo egregio. Invece oggi era come se non ci fosse in campo. Ma non so se fosse un fatto di distrazione, però quando siamo andati sotto sull'1-0 logicamente era una squadra volta ad andare a recuperare la partita. Quindi non credo sia solo una distrazione di Tringali, c'era già la testa al recupero perché loro su un tiro scialbo che non era nemmeno un tiro in porta, stranamente la palla è entrata in rete. Cosa che a noi non capita nemmeno nei tiri con molta potenzialità di gol. Sì, comunque dobbiamo dire oggi giocavano due squadre che sembravano la fotocopia. Sì, in effetti sembravano con le stesse potenzialità di forza. Stessa disposizione? 4-2-3-1? Sì, stessa disposizione, ma sai il primo episodio, quando avviene l'episodio che tu subisci un gol in quel modo, c'è la parte psicologica e noi siamo caduti un po' da questo punto di vista. E quindi poi è sempre difficile, ci siamo un po' galvanizzati con l'1-1 con il gol di Domenico Bruzzaniti, ma poi è un'altra tegola perché in effetti loro non è che hanno fatto chissà che cosa. Io, nel fare il commento, ho detto che è stata veramente una noia, tranne nel primo tempo solo il fatto dell'autorete. Appunto, loro non è che hanno fatto un gioco da metterci sotto, cioè della partita un po' l'abbiamo condotta noi, loro hanno fatto i gol e basta. Sì, certo, comunque quello che conta... Quello che conta, sì, infatti noi non cerchiamo scusanti, voglio dire questo, purtroppo i gol contano, loro l'hanno fatto e noi no. Comunque allora si pensa di riprendere questa corsa per arrivare alla salvezza? Ma io penso di sì perché oggi ha segnato pure Savasta l'attaccante che abbiamo preso, che è un ottimo attaccante. Quindi credo che con l'inserimento anche di Giovanni Galletta, poi anche Bruzzaniti e Savasta, sono tre attaccanti che insieme possono dare un contributo molto importante. Sì, però questi tre attaccanti se non sono serviti servono poco. Sì, appunto con il rientro di Genova Simone Galletta ritornerà a centrocampo. Tripodi oggi mancava? Tripodi ritornerà a centrocampo, quindi oggi non è che avevamo centrocampo completo, era un centrocampo arrangiato un pochettino dalla necessità. Grazie.